Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, la Mille Miglia passa per Roma, sino a sabato mattina chiusure su via Veneto tra Porta Pinciana e via Boncompagni, le deviazioni bus sono su romamobilita.it. Le altre notizie, sabato il Gay Pride 2024, è previsto un corteo sabato pomeriggio tra le 14 e le 20 da Piazza della Repubblica a Viale delle Terme di Caracalla, passando per l'Esquilino, via Labicana e via di San Gregorio. I divieti di sosta e le chiusure sono su romamobilita.it.